Non mi piaci? Sei noioso? Ti trovo prevedibile e appiccicoso? Mi fai schifo? Non te la darai neanche se fossi l'ultimo uomo rimasto sulla faccia della terra? Ti hanno mai detto cose del genere? Molto probabilmente, a meno che tu non abbia fatto qualcosa di veramente sbagliato e assurdo, no, in quanto cercano di essere gentili. Vediamo invece cosa ti dicono davvero e cosa fare per rimediare alle loro scuse. Prima di cominciare però ti ricordo una cosa molto importante. Ho anche un canale telegram chiamato Giudio Renzo, lì ci do informazioni molto più avanzate che qui su YouTube non ti posso dare, quindi venimi a trovare anche lì i link in descrizione. Cosa ti dicono quindi le ragazze per scaricarti in buona sostanza? Mi sono resa conto che non è scattato quel qualcosa in più. Purtroppo oggi non sono riuscito a fermarmi un attimo. È un periodaccio se solo sapessi. Volevo risponderti ma mi sono proprio dimenticata. Eh, questo periodo con gli esami. Queste invece te le hanno dette, vero? Bene, sono tutte scuse. Ti stanno mentendo o te lo stanno proprio dicendo, frienzonandoti oppure ti stanno pian piano gostando, sperando che ti mangi la foglia. Quindi la verità nuda e cruda. Se lei vuole, il tempo lo trova. Se no, sei solo un beta orbiter, come lo chiamiamo in gergo tecnico, cioè un maschio che lei stiene attorno, in questo caso per farsi coccolare l'ego, fino a quando non diventi troppo insistente e il giochino si rompe. Cosa farci? Nulla. Ormai ti ha già scartato. Semplicemente impara la lezione e passa alla prossima. Questo tipo di ragazze non spaeranno mai al 100%, ma diminuiranno, se migliori, molto drasticamente e quando arrivano starai più veloce a filtrarle. Ehi, fermo lì. Prima di andartene ricordati di iscriverti al canale e di andare a guardare subito i video gratuiti che ho creato per te sulla seduzione via messaggi. In questi video ti mostrerò vari screenshot di chat commentate passo passo dove ti mostro come sia possibile portare ad appuntamenti ragazze che inizialmente non rispondere ai tuoi messaggi e trasformarle in ragazze che non vedono l'ora di uscire con te. Quindi clicca il link a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.